Siamo alla Sagra del Porcino e della Chianina a Castelfranco di Soto. Siamo qui sotto in provincia di Pisa, vediamo questi bellissimi sughi, quindi ci chiediamo cosa si mangia alla Sagra. Alla Sagra si mangia il sugo di ragù di Chianina, scusami il fatto con il macinato di Chianina allevato qui a Castelfranco. Dopo possiamo assaporare la boscaiola che è molto buona anche quella. Poi abbiamo il fungo porcino, con le taglioni a funghi porcini, che è buonissimo anche questo. Dopo abbiamo del roast beef di Chianina sempre, come secondi piatti, con fungo porcino sopra e scaglie di parmigiano. Poi abbiamo la bistecca con la cappella, la bistecca con funghi tagliati a fette che è molto buonissima, saporita. La bistecca da sola naturalmente e gli hamburger sempre di Chianina. Quindi abbiamo una varietà abbastanza, però, sempre basato su Chianina e funghi. Sì, quindi comunque diciamo le materie prime sono di qualità, mi diceva, delle Chianina allevate proprio a Castelfranco, sì, dall'azienda agricola Frangioni, Frangioni Marco, che c'è dalla frutta, tutta la roba, tutta la carne, dai girelli al macinato, tutto quanto ci serviva per fare i besti sudi. E poi, insomma, la pasta che è sempre buona, quindi il pastificio Morelli, naturalmente abbiamo anche un po' di pasta di coppia, non abbiamo solo il pastificio Morelli, però, comunque, sempre, sempre su qualità, tutta roba di Castelfranco, io diciamo, la maggior parte è roba di zombie. Quindi, diciamo, allora, la sagra, ripetiamo, tutti i nostri, fine settimana, fino al 2 di novembre? Al 2 di novembre, sì, tutti i fine settimana, il sabato sera, domenica pranzo e domenica sera, da ora fino al 2 di novembre. Benissimo, allora non vediamo altro che è l'ora di provare questa specialità. Senz'altro, e non vi si aspetta. Grazie. Arrivederci. Arce, ti voglio un po' lì. Arce, ti voglio un po' lì. Arce, ti voglio un po' lì. Arce, ti spedio lì, che lì. Arce, ti spedio lì. Arce, ti spedio lì. Arce, ti sticca. Arce, ti sticca. Buono. Buono. Arce, ti spedio lì. Arce, ti spedio lì. Arce, ti spedio lì. Arce, ti spedio. Grazie a tutti.